stop fermati e ascolta ho un sorprendente annuncio da farti vuoi perdere peso ed essere in forma smagliante ho un'importante notizia per te ho scoperto come puoi riuscire a migliorare il tuo corpo e a raggiungere l'attitudine mentale al successo spendendo di meno e ottenendo di più donami 5 minuti e ti mostrerò come conquistare il fisico dei tuoi sogni caro futuro campione cerco persone che vogliono mettere in pratica il mio rivoluzionario metodo di successo man mano che ascolterai quanto ho da dirti sarai pervaso da una voglia matta di mettere in pratica i miei speciali segreti per il successo ho attraversato un periodo della mia vita in cui ero a disagio col mio corpo non mi piaceva più e volevo migliorarlo ho studiato molto seguendo corsi leggendo libri e parlando con trainer di tutto il mondo finalmente ho conquistato un segreto rivelatore sono riuscito a perdere peso tenendo un addome in evidenza tutto l'anno e ho aiutato uomini e donne a raggiungere il proprio fisico ideale per ottenere questo risultato ho dovuto fare chiarezza su tutte le notizie discordanti che circolavano nel settore se anche tu come me a volte hai cercato sul web informazioni riguardo come ottenere un miglioramento fisico sai certamente quanto è difficile trovare un'unica ed efficace risposta chi ti dice che per dimagrire devi diminuire i carboidrati chi ti dice che devi diminuire i grassi chi ti consiglia di svolgere attività aerobiche chi ti suggerisce di scriverti in palestra come venirne a capo la fantastica notizia è che io sono riuscito a fare chiarezza e ad ottenere risultati e tu puoi fare lo stesso adesso voglio trasmettere a te queste rivoluzionarie notizie se davvero vuoi dimagrire e cambiare la tua vita allora continua ad ascoltare poiché questa sarà la lettera più importante della tua vita le persone attenti alla propria salute come te sanno che si stima che in italia la cifra stanziata dal sistema sanitario nazionale ammonta 106 miliardi e 650 milioni di euro per curare persone affette da ogni sorta di malessere più o meno grave una stima del 2002 inoltre assegna all'obesità un fattore di rischio al quale attribuire 57.000 morti all'anno una persona su sei soffre di malnutrizione un numero uguale è colpito dall'obesità o in sovrappeso in europa la prevalenza dell'obesità negli ultimi due decenni è triplicata ma sai anche che si stima che i cittadini italiani spendono di tasca propria 30,6 miliardi di euro l'anno per la salute e circa 10 miliardi per prodotti di bellezza sai che sono 300 milioni praticanti del fitness in tutto il mondo sai che in italia 12 milioni di persone si interessano al fitness spendendo mediamente una cifra annua intorno ai 600 euro e che solo una piccola percentuale di queste riesce ad ottenere un visibile miglioramento dell'estetica del proprio corpo queste cifre ti devono urgentemente far riflettere oltre che per le aspettative salutistiche o di estetica anche per l'attuale inflazione monetaria la domanda è c'è qualcosa che nel tuo piccolo tu puoi fare per abbassare e valorizzare questa spesa per il tuo benessere ottenendo un corpo pressoché perfetto è qui che dalla pnl al fitness wellness solistico possono essere di aiuto reale per te le notizie che vi troverai non sono solo attuali ma sono state provate sul campo e accertate dalla comunità scientifica con le ricerche mediche vi riportate e sulla loro accuratezza puoi farci affidamento e questo non è tutto i consigli in essi riportati sono di facile attuazione non solo per uno sportivo o per una persona già in forma ma soprattutto per la persona comune che non ha mai fatto sport ciò ti permetterà con comprensione e lungimiranza di investire bene il tuo denaro e il tuo tempo per tutelare il più importante bene che tu possa avere la salute ebook citati sono la fenomenale fonte di informazione per chi non vuole mai più preoccuparsi dei problemi della salute e del benessere hanno aiutato altre persone prima di te lo stesso faranno con te non ti dico che sono gli unici strumenti per raggiungere il successo fisico ma ti prometto che appena tu avrai terminato il loro studio e ne avevi messo in pratica i relativi segreti raggiungerai una forma fisica e mentale migliore di quella che avevi prima di conoscerli diventare il primo nella vita richiede la conoscenza e l'applicazione di particolari strategie hai conosciuto il valore del mio prodotto e le mie promesse ascolta un consiglio se non agisci ora domani sarà troppo tardi il successo non premia i rimandatari e perderai per sempre la grande occasione di cambiare la tua vita in meglio questi testi funzioneranno anche per te non lo saprai mai finché non avrai provato fallo subito prima che sia troppo tardi puoi avere il successo e il fallimento tu cosa vuoi prenditi il successo che meriti inizia ora subito buon corso e buona vita con affetto oreste maria petrillo grazie a tutti grazie a tutti